testo di prima no 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 aspetta sbagliato barbo ancora quello di prima si lascia fare lascia fare che gioca il galaxy in doppio la coppola gioco carlo prima carta sei cazzo che faccia con il giallo si però non posso cominciare con un buon stream ah no 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 che cosa sto dicendo e allora che la tanky crisp good luck fips salve ehi bauke luca si prossimi almeno salve e la madonna tienitene un po' per dopo e questo è per me ah ma è hai messo anche firefist nel minchia non vuoi mettere il motore firefist cosa è effetto dailer ah ok no perché perché non possiamo spaccarti niente ok no no tranquillo lascia ma perché no ma secondo me giocherà un twilight gli serve un mostro luce al cimitero oh no aspetta ma nessuno gioca a mizuho ma nessuno gioca a mizuho ah fa una cosa intelligente il grandmaster li rimuove così non rievoca più bravo salve al massimo posso usare la tanky per distruggirgli mizuho vai vai ah no questo è no e beh 2 castor un kerikion con passo di mirror e darkorn bene ma a noi va bene così eccolo lì ah sto facendo evoca l'altro castor evoca l'altro castor voglio vedere ora cosa gioca questo qua pergo pergo no ma del tipo how to win no skill evo kiofio ne hai vinto evo kiofio eccola là eh vuoi che non la presentiamo anche questo prossimo turno prossimo turno se aspetta qualcosa gli fa il tifone gli fa il tifone e usi il gorillo come vedi che vinciamo 16.000 in giro come prima ma te cose che giochi 3 3 bear e un gorilla no 2 bear e un gorilla dovrebbe essere non gioco al costello da un sacco 15 v'ho Quote servants qui 2 non la testo top i secondi il addition lo è piuttosto che 3 23 qui è men floss guarda guarda road 6 d'olore si butta falco ma guarda che c'è da 4 guarda che lo fa il cloma e ci scommetto nel v vediamo oppure legge sonic sonic gattago feste vediamo ciò può fare no aspetta ok pesca una carta se voi mi sarei matano cimitero coso e giochi ma a parte questo gioco con 45 carte ok e scala e scarta lumina si ma cos'è che sia o shadow fusion e erano tanto mi sa che se la puoi riprendere la fusion lo sai mi sa di sì però intanto per ora sta va beh a parte che quella becker che abbiamo di un dio però un'altra non ho mancato appena evoca una fusione già con passoli brutto figlio no 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 ragazzo mio c'è provato è una carta della dolla è perfetta ma l'avevo già fatta vedere easy and in uno dei sui video passati è il mazzo che è solo la campionese giapponese penso e cazzo e adesso che stronza è buco nero tifone non scuamata no ma scuamata stiva solamente si è scartata dal deck penso non mi pare gli scard beh no ok guarda che è stata scartata si si è stata mandata al cimitero quindi ok chi evo chi ha lucard ok ma tra l'altro guarda che l'effetto di scuamata è di prezzo manzo voli potenze però ma resta no 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 e non le difesi vabbè a parte con quello che abbiamo passato non risparcola canta coperta dopo il qualche suonix is bars 12 no no quali mi lascia e data allora vediamo no ho visto un' nicola scusa ah no, Negro Garden guarda me l'immaginavo ecco, visto in serie te l'ho detto si ma tranquillo tranquillo che finchè abbiamo Ophion non puoi evocare Hamilton Judgment no Feliz no aspetta no però Ellen Face non può attivarla aspetta no ok non può attivare l'effetto si ma basta no no massimila tutto il ma ma è bello che la giocare rendo più brutto fai una cosa eh io ho pescato sombrero eh si ok, Gorilla distruggi la coperta allora attivate arrivederci Tenky tu mi stai un po' sul cazzo spero non sia un tifone o un compasoli a parte che hai il compasoli no niente no probabilmente oh ok cos'è che hai in mano? eh c'ho Chaos no Chaos e sombrero eh tieni Chaos fai una cosa allora distruggi prima Eren anzi con Ophion distruggi aspetta aspetta distruggo Eren con Firefist bla 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 no 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 a 1600 con Chaos distruggi Eren raggiunto ora attacco ora con Chaos Eren con Ophion distruggi Felice e sperando che non abbia l'onest in mano più che altro eh a parte che sta facendo waiting quindi sto preoccupando no però ci ha lasciato il fusion ah necro ehm fai fuori Felice con Ophion si ho capito tre ore per fare tu sei pericoloso avrò un altro necro guard poti fare una volta per turno o quante volte vuole una volta per turno no no aspetta niente con Gorilla fai fuori l'allumina e l'attacco eh almeno mi prendo l'altra Tenki e mi prendo l'altro Chaos no il cazzo mi prendo Chaos vedo che hai capito cosa fare dimmi che ecco sai che posso attivarla vero? attivala vabbè prendi Bear e distruggi Felice hai già evocato normalmente mmm si Chaos prenditi Bear comunque ecco adesso eh attiva ascolta attiva il compulsory su eh Felice perchè sennò distrugge Ophion e siamo nella merda ok mmm no no l'Xis lo faccio a dire no ma tanto è una carta morta in mano Felice no no in caso evocasse cose strane e tutto il resto io lo evoco dopo tanto da buco nero o altre cose siamo coperti con Ophion che c'è l'infestation Pandemic e il personaggio di questo di fare un altro Ophion non hanno più necro Gardena in mano quindi no infatti ne sprecati due e a noi va bene esatto con Ophion non può evocare mostri di alto livello siamo protetti quindi gli shadow non va a cazzo scusa no ah ho capito capito ah va bene come mai 14 cartelle extra quello e ancora ma è mezzuo ma è mezzuo c'è una caratterrino bella 6 samurai che ogni volta che viene avvocato un 6 samurai mette un segnalino e se si muore guarda un tipo 100 l'attacco per un segnalino carina eh era sheehan smith adesso no no è un'altra nuova nuova che non si è ancora usata penso bella carta ria scusa eccala ah pensavo evocasse alucard o no eh no ma lo sai che al prossimo turno te lo rompo no no quel cazzo ah no è vero è vero che attiva l'effetto cazzo oh kagemusha eh mica il sonen warning quello si sonen warning eh eh anche il united bene allora cazzo canis ma forse gli ha fatto gli ha forse gli ha fatto tornare in mano aspetta semmai ne si intendo no 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 niente non posso perchè ho solamente un evil swarm al cimitero aspetta ehm potevo fare uroroboss però mi servono anche i tuoi vai vai tranquillo però togli già anzi però togli già no 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 fai pure uroroboss e poi prima ehm prima attiva l'effetto di guerriere gli struggo dojo si vai vai ok tanto per fare poi ehm quando detaccia caos che lo recupero dopo ok buongiorno ok buongiorno arrivederci ok adesso guarda ti lascio qui questo nooo nooo che padre ciao cazzo pur l'avrei evocato lo so lo so ciao per oggi tutto direi si si e niente ci vediamo al prossimo video per far vedere a meno che non vuoi fare vedere gli unzing a caso bello semmai la prossima volta f*** ok ciao ragazzi e quello stanfisk fungerà da collegamento per il nuovo video ma non è ancora uscito quindi è totalmente inutile guardatelo ciao